Sono Marino Domenico della Beable e in questo video tutorial parleremo del PFSense 2.0.1 o meglio come installare il PFSense all'interno di una VM come hypervisor useremo l'hypervisor di VMware mentre come ferro useremo il microserver HP dopo che gli abbiamo fatto delle modifiche ulteriori andando a installare un'ulteriore scheda di rete sempre compatibile con VMware in modo tale che abbia il microserver due schede di rete e in modo tale che possa essere utilizzato chiaramente come punto di separazione tra LAN e WAN abbiamo installato altri banchi di RAM per un totale di 8 GB di RAM e abbiamo installato anche un dispositivo che effettua il RAID con due hard disk da 2 pollici e mezzo per migliorare la business continuity aziendale tutto questo lo potrete vedere all'interno del nostro blog però ricordatevi sempre che il microserver HP è un server che noi generalmente utilizziamo quando facciamo riferimento ad aziende piccole massimo 5-7 dipendenti andiamo a scaricare l'immagine ISO del PFSense sul sito direttamente di PFSense nella sezione download e scegliamo un mirror può essere uno qualsiasi vada bene l'unica cosa molto importante è scaricare l'immagine corretta perché in base a questa immagine dovremo creare la VM scarichiamo quella a 64 bit e attendiamo che venga effettuato l'intero download chiaramente qui è stato un po' accelerato andiamo ad aprire l'archivio prima di andare ad aprire l'archivio andiamo ad aprire il client di VMware vSphere il nostro hypervisor adesso dobbiamo posizionarci all'interno della cartella dei download e andare ad aprire l'archivio che abbiamo scaricato in modo tale da avere sul disco direttamente la ISO ci posizioniamo nel pannello di configurazione e precisamente nello storage tasto destro su Data Store Browse Data Store e andiamo ad effettuare l'upload della ISO questa ISO che chiaramente la utilizzeremo come CD-ROM la monteremo al posto del CD-ROM quindi andiamo a creare una virtual machine di tipo custom la chiamiamo PFSense 2.0.1 virtual machine 8 e soprattutto in guest operating system andiamo a scegliere FreeBSD a 64 bit andiamo avanti per default tranne che la scelta di due schede di rete come minimo il nostro disco sarà abbastanza piccolo 16 GB va bene e andiamo a concludere ora dobbiamo andare nei settaggi della macchina virtuale e andare a montare la ISO che abbiamo precedentemente scaricato quindi ci posizioniamo nel Data Store 1 scegliamo la ISO e andiamo a far partire la macchina virtuale con il BIOS la prima schermata di BIOS ok finalmente possiamo far partire la nostra VM entriamo nel BIOS nella sezione di boot e andiamo a scegliere come primo dispositivo il CD-ROM attendiamo che venga fatta partire l'immagine andiamo a cliccare Yes l'unica cosa importante è che dobbiamo decidere 1 e M0 e per la LAN M1 andiamo a cliccare 99 per l'installazione totale del PFSense andiamo a scegliere chiaramente i settaggi di default e andiamo a scegliere come Symmetric Processor finalmente abbiamo installato tutto adesso la prima cosa che dobbiamo fare è spegnere direttamente la macchina in modo tale da smontare il CD-ROM precedentemente montato in modo tale che nel successivo riavvio non venga fatto partire la CD-ROM altra cosa molto importante dobbiamo collegare le due reti chiaramente alle due schede di reti alle due reti differenti una alla WAN e l'altra alla LAN quindi andiamo a creare un'altra rete che andremo a collegare direttamente alla WAN alla M0 la chiamiamo Firewall1 ritorniamo nella nostra macchina virtuale e andiamo ad associarla al Network Adapter 1 abbiamo creato il nostro punto di separazione facciamo partire la nostra macchina virtuale e la cosa che dobbiamo fare è chiaramente andare a definire l'indirizzo IP della LAN del Firewall che dovrà andare a sostituire quello del nostro attuale Gateway in modo da non creare scompiglio all'interno della rete LAN quindi subito quando ci viene chiesto di definire l'indirizzo IP della LAN andiamo a posizionare l'indirizzo IP che attualmente utilizziamo come Gateway possiamo a questo punto accedere direttamente con un browser al 192.168.01 e l'unica cosa che dobbiamo fare e quindi modificare l'indirizzo IP della LAN del Firewall e successivamente l'indirizzo IP del Gateway della LAN che corrisponderà chiaramente all'indirizzo del nostro router quindi andiamo a definire l'indirizzo IP che sarà statico della LAN come 192.168.1.1 e successivamente l'indirizzo IP del router che viene identificato come Gateway 192.168.1.10 il gioco è fatto ora dobbiamo andare solo fisicamente a cambiare l'indirizzo IP del router per creare il punto di separazione e quindi ogni qualvolta che andremo a chiedere una pagina internet la chiederemo prima al Firewall e il Firewall la chiederà al router Salve